Perchè anche i giusti soffrono? Perchè a volte il male colpisce anche l'innocente? Nella puntata precedente abbiamo visto che Dio non è l'autore del male. Satana manda il male, ma Dio lo permette. Dio garantisce a Satana una certa libertà di azione. Vedete, Dio non può fermare Satana ogni volta che vuole tentare gli uomini, ogni volta che vuole fare del male a qualcuno, perché altrimenti non esisterebbe nemmeno un conflitto tra il bene e il male. E la Terra, con la decisione di Adamo ed Eva, nostri primi genitori, è entrata in questo conflitto tra il bene e il male. E perciò Satana ha un certo diritto di poter agire in questo mondo. E Dio gli deve concedere dello spazio per agire. D'altra parte, anche se Dio non permettesse al male di sviluppare i suoi principi, le creature celesti, ma anche noi, non saremo in grado di vedere quanto è amaro, quanto è brutto il male che Satana cerca di fare alle creature di Dio. Abbiamo visto anche che Dio ci lascia liberi di vivere come vogliamo, ma non ci lascia liberi dalle conseguenze delle nostre scelte. E ogni scelta porta con sé delle conseguenze. Scelte contro la volontà di Dio portano delle conseguenze negative. Ed è per la misericordia di Dio che Dio ci permette di soffrire le conseguenze delle nostre scelte sbagliate. È perché noi possiamo riconoscere quanto sia amaro allontanarci da Dio, vivere lontano da Lui. E in questa condizione pentirci ed essere eternamente salvati. Però non tutto il male che noi sperimentiamo, non tutta la sofferenza che subiamo nelle nostre vite, è frutto delle nostre scelte sbagliate. A volte il male ci colpisce così in un modo che sembra casuale. A volte accadono delle tragedie che non sono nemmeno premeditate. A volte il male ci colpisce per le scelte sbagliate di altri nei nostri confronti. Non tutta la sofferenza delle persone è conseguenza delle loro scelte negative. Che dire allora di questo genere di male? A Dio importa che anche i giusti e gli innocenti soffrono? A Dio che cosa fa? Perché anche chi è suo figlio, sua figlia, deve subire a volte delle tragedie? Che cosa possiamo dire di bambini innocenti che muoiono di fame? Che cosa possiamo dire di bambini che si ammalano di tumore? Oppure di ragazzine che vengono forse molestate per anni, magari da un familiare? Che dire di un padre di famiglia che perde il lavoro e la possibilità di sostentare i suoi familiari? Che dire magari di un giovane che viene investito di notte da un ubriaco che era alla guida? Che dire del male quando colpisce in modo così tragico? E a volte anche i figli di Dio. Dio dovrebbe fermare ogni volta che un peccatore sta premeditando del male contro un altro? Dio lo dovrebbe fermare? Dio dovrebbe fermare tutte le persone che scelgono liberamente di fare il male? Sarebbe un mondo migliore? Dio dovrebbe fermare ogni persona che fa piani di uccidere qualcun altro? Dio dovrebbe fermare ogni persona che sta pianificando di abusare sessualmente di qualcun altro? Dio dovrebbe pianificare, scusate, Dio dovrebbe fermare ogni persona che sta pianificando un furto? Dio dovrebbe fermare tutte queste persone? Forse pensi che sarebbe meglio così, ma la domanda vera è perché Dio dovrebbe fermare soltanto alcune persone dal compiere il male? O forse Dio dovrebbe fermare tutto il male? Ti piacerebbe se Dio ti fermasse ogni volta che vuoi parlare con rabbia contro qualcun altro? Ti piacerebbe che Dio ti fermasse ogni volta che vuoi guardare una donna per desiderare nel tuo cuore? Ti piacerebbe che Dio ti fermasse ogni volta che vuoi evadere le tasse? Vedete, il peccato non è solo omicidio. La rabbia, Gesù disse nel Sermone sul Monte, sarà punita allo stesso modo. L'odio e la rabbia saranno punite allo stesso modo dell'omicidio. Perché chi ha commesso un omicidio, alla fine, è perché è stato mosso da quei sentimenti di rabbia, di odio nel cuore all'inizio, di quella strada. O chi alla fine commette adulterio o una violenza sessuale è perché all'inizio è stato mosso dal desiderio sessuale non controllato nella sua mente. Magari tutto è cominciato con un semplice sguardo. E allora che cosa dovrebbe fare Dio? Impedire totalmente che l'uomo faccia il male? Ma non è possibile. Perché facendo così prevaricherebbe la nostra libertà. Perché i nostri primi genitori, Adamo ed Eva, hanno scelto volontariamente di disubbedire a Dio e quindi hanno fatto piombare la loro intera razza, tutti i loro discendenti, in questo conflitto tra il bene e il male. Siamo dentro questo conflitto e abbiamo una natura peccaminosa dentro di noi. E quindi Dio deve onorare e rispettare la libertà di scelta della quale Egli ci ha dotati. E deve anche garantire, come dicevamo a Satana, una certa libertà di azione nel mondo. Perché se così non facesse, beh, allora avrebbe posto già fine al conflitto tra il bene e il male. Perché se il tentatore non avesse spazio di tentarci, beh, allora Dio metterebbe così fine al male. Ma abbiamo detto che il conflitto tra il bene e il male, in una puntata precedente, abbiamo detto che ha a che fare non solo col togliere fisicamente il male di mezzo, ma col togliere dalla mente di tutte le creature di Dio il seme del dubbio che Dio sia un Dio egoista e ingiusto. E quindi vedete che Dio deve permettere al male di sviluppare i suoi principi, deve permettere a Satana di avere una certa libertà di agire e di colpire anche gli uomini. Il male, le prove, la malattia, la sofferenza, le tragedie possono colpire tutti gli uomini e possono colpire anche coloro che seguono Dio nella loro vita. Non è che i credenti sono al riparo dallo sperimentare tragedie o prove o tentazioni nella loro vita. Il fatto che qualcuno sia colpito dalla sofferenza non significa che quella persona sia necessariamente lontana da Dio. Se ti sei ammalato di tumore non significa che Dio ti sta maledicendo perché gli sei stato infedele. Anche il popolo di Dio aveva questa falsa credenza riguardo al male, alla sofferenza, alla malattia quando colpivano le persone. Pensavano che fossero un indice del fatto che quella persona era stata infedele a Dio e che quindi Dio la stava maledicendo, la stava punendo per i suoi errori. Abbiamo detto sì che a volte il male e anche la malattia può venire come conseguenza delle nostre scelte sbagliate ma non è sempre così. E non è che una persona che sia ammalata in una grave malattia, una persona che ha perso un familiare non è Dio che la sta maledicendo perché gli è stata infedele. Non è Dio che la sta colpendo per punirla. Dio ha voluto sfatare questa falsa credenza che ripeto si era insinuata anche tra il suo popolo. Quando Gesù era sulla terra disse in Luca 13 riguardo a un fatto che era accaduto ai suoi giorni Luca 13 versetti 4 e 5 Quindi una torre era caduta su 18 persone uccidendole e forse pensavano che quei 18 avevano peccato così gravemente contro Dio che Dio li avesse puniti con questa morte così tragica e improvvisa. Ma Gesù disse no! Non pensate che se questi sono morti tragicamente per il crollo di una torre erano più peccatori del resto degli abitanti di Gerusalemme. Non è così. Non è che Dio ha voluto colpire quelle persone per punirle per i loro peccati. È che siamo in un mondo dove esiste il male e le tragedie avvengono. Gesù anzi disse che se gli abitanti di Gerusalemme non si fossero ravveduti sarebbero morti comunque. Sarebbero morti ovviamente Gesù intendeva eternamente. Perché se uno non si ravvede dai suoi peccati a poco importa se è morto di una morte tragica oppure se è arrivato a morire in pace di vecchiaia. Perché allo stesso modo sperimenterà la morte seconda se non si è ravveduto dei suoi peccati. In un'altra occasione Gesù passando vicino a un uomo cieco fin dalla nascita cercò ancora di sfatare questa falsa credenza che addirittura era radicata anche nel cuore dei suoi discepoli. Perché vedendo quell'uomo cieco dalla nascita i discepoli dissero a Gesù e gli chiesero in Giovanni capitolo 9, i versetti 2 e 3 i suoi discepoli lo interrogarono dicendo Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Gesù rispose Né lui né i suoi genitori hanno peccato ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. La domanda dei discepoli ancora una volta rifletteva questa falsa concezione diffusa in Israele Cioè che la malattia fosse una diretta conseguenza del peccato di una persona che quindi fosse il segno che Dio la stava maledicendo la stava punendo a causa dei suoi peccati. Posero questa domanda sicuri di questa concezione perché erano talmente sicuri quel bambino era nato cieco perché o lui aveva peccato nella pancia di sua madre ed è tutto da dimostrare come un bambino poteva peccare prima di nascere ed essere ritenuto responsabile delle sue colpe oppure dissero i suoi genitori peccarono chi ha peccato? Lui e i suoi genitori perché è nato cieco deve essere così che o lui o i suoi genitori hanno peccato non può essere che nessuno dei due non sia la causa di questa cecità e Gesù smontò questa falsa concezione rileggiamo la risposta né lui né i suoi genitori hanno peccato ma ciò è accaduto affinché siano manifestati in lui le opere di Dio questa frase non va fraintesa nel senso che Dio ha fatto nascere quel bambino cieco cioè nella pancia di sua madre gli ha cavato gli occhi apposta perché poi più avanti sarebbe venuto Gesù sulla terra e lo avrebbe guarito e questo avrebbe glorificato il suo nome non è questo il modo in cui dobbiamo intendere il testo non è Dio che ha causato la cecità di quel bambino però quel bambino era nato cieco perché siamo in un mondo di peccato e le cose succedono la malattia è conseguenza del peccato sì non necessariamente capite conseguenza dei peccati personali della persona ma è conseguenza diretta del fatto che viviamo in un mondo dove esiste il peccato e il male se sei nato disabile se hai avuto un figlio mentalmente disabile o fisicamente disabile non significa che Dio ti ha punito perché gli sei stato infedele purtroppo viviamo in un mondo imperfetto in un mondo decaduto e queste cose succedono e colpiscono gli uomini sì a volte anche i figli di Dio Satana ha portato tanta miseria nel mondo ha portato la malattia la sofferenza perché vuole attribuire a Dio la causa di questa sofferenza vuole portarci a maledire Dio nel nostro cuore ad allontanarci da Lui a ritenerlo responsabile dei nostri dolori ma Dio aveva dato nella Bibbia nelle scritture ebraiche al popolo stesso di Israele aveva dato un libro intero perché non cadessero in questa falsa concezione ed è il libro di Giobbe in quel libro vediamo che i tre amici di Giobbe purtroppo anche loro sono vittima di questa falsa concezione perché quando andarono da Giobbe una volta colpito da questa grande tragedia la perdita di tutti i suoi figli di tutte le sue ricchezze per una settimana rimasero in silenzio ma poi iniziarono a parlare a Giobbe dicendoli in sostanza beh se questo ti è successo deve aver commesso qualcosa di terribile pentiti dei tuoi peccati perché Dio ti ha colpito e Giobbe non si dava pace perché lui sapeva che viveva in armonia con la volontà di Dio sapeva di essere un uomo di Dio e di non dover non doversi pentire di qualche peccato volontario particolare capite che era stata la causa di quelle tragedie e quindi Dio in questo libro ha aperto il sipario che ci separa dal mondo spirituale che è invisibile ai nostri occhi per farci capire che c'era una lotta un conflitto alle spalle di Giobbe che si stava combattendo in cielo e che è quindi l'antefatto alle tragedie che colpirono poi Giobbe e leggiamo questo in Giobbe al capitolo 1 i versetti 6 e 7 un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana l'Eterno disse a Satana da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù quindi la scena è dei figli di Dio si andarono a presentare davanti a Dio e Satana andò in mezzo a loro chi sono questi figli di Dio che si presentarono davanti a Dio? troviamo un altro testo in Giobbe al Giobbe 38 versetto 7 nei quale si parla dei figli di Dio e si parla di un tempo precedente alla creazione del mondo di questo mondo e la Bibbia dice quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia le stelle del mattino sono rappresentate da angeli in altri passaggi della Bibbia per esempio nel libro dell'Apocalisse al capitolo 1 o al capitolo 12 quindi le stelle del mattino che cantavano erano angeli ma insieme a loro ci sono altri figli di Dio che mandavano grida di gioia e quindi non possono essere angeli sono un'altra categoria di persone un altro motivo per cui capiamo che i figli di Dio non sono angeli in questo passaggio sono i verbi che sono utilizzati l'abbiamo letto un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno andarono a presentarsi sono due verbi in ebraico bo e yatzab che implicano uno spostamento da un luogo lontano per andare in un altro luogo quindi dice andarono a presentarsi davanti a Dio vuol dire che sono creature che non vivono abitualmente davanti a Dio alla sua presenza gli angeli invece sono alla presenza di Dio si tratta di altre creature quindi creature che non sono mai cadute nel peccato e che abitano altri mondi creati da Dio è interessante notare che la Bibbia chiama anche Adamo figlio di Dio in Luca 3 al versetto 30 Adamo era il figlio di Dio in senso proprio letterale perché era nato da Dio creato da Dio nato già adulto o meglio creato già adulto ed era figlio di Dio non aveva non aveva genitori terreni era uscito dalle mani di Dio e Dio gli aveva dato dominio sulla terra quindi Adamo era figlio di Dio e Dio gli aveva detto di soggiogare la terra di dominare su di essa cioè Dio è il sovrano dell'universo è il re dell'universo e ha dato ad Adamo figlio di Dio il dominio su una porzione del suo universo e quindi in quanto figlio di Dio Adamo doveva governare su questo mondo come rappresentante del re supremo dell'universo Dio stesso quindi possiamo capire che questi figli di Dio che andarono a presentarsi davanti a Dio erano rappresentanti dei mondi non caduti nei quali vivevano così come Adamo era rappresentante della terra una volta creato però il testo dice che Satana si presentò in mezzo ai figli di Dio e la domanda che Dio gli fa è pesante dice da dove vieni non è che Dio non conosceva la risposta alla sua domanda sapeva benissimo che Satana veniva dalla terra ma in questa domanda è implicita un'altra domanda perché sei qui da dove vieni a quale titolo sei qua con quale diritto ti presenti qui e notate la risposta di Satana dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù Satana stava affermando di avere dominio sulla terra io vengo dalla terra e la percorro avanti e indietro così come voglio perché è mio territorio e mio dominio Satana si è presentato davanti a Dio in mezzo ai figli di Dio rappresentanti degli altri mondi non caduti dicevo Satana si è presentato davanti a Dio come rappresentante del nostro pianeta della nostra razza Dio aveva creato Adamo come rappresentante di questo pianeta ma peccando contro Dio e ascoltando le bugie di Satana era come se Adamo avesse spiritualmente passato questo testimone in mano a Satana e ora il rappresentante di questo mondo che prima era Adamo era diventato il nostro arci nemico Satana stesso quindi Satana aveva diritto di presentarsi davanti a Dio in quanto rappresentante della terra notate la risposta di Dio alla pretesa di Satana di essere lì a pieno diritto la terra è mio terreno è mio dominio Giobbe 1.8 l'Eterno disse a Satana hai notato il mio servo Giobbe poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui che sia integro retto tema Dio e fuga al male Dio rispose indicando a Satana Giobbe perché Satana reclamava il diritto di essere là dicendo la terra è mio dominio completo io faccio quello che voglio vado avanti e indietro sulla terra e Dio disse stai un attimo attento perché questo uomo Giobbe non segue i tuoi principi è un uomo che è fedele a me quindi Dio disse che a Satana in sostanza che la terra non era interamente suo dominio sicuramente Giobbe non era l'unico uomo giusto ma Dio lo scelse come esempio fu Dio che portò all'attenzione di Satana di tutti i figli di Dio riuniti lì la figura di Giobbe disse hai notato il mio servo Giobbe non c'è nessun altro come lui sulla terra che sia integro come lui che mi tema che sia giusto che si ritiri dal male quindi notiamo conoscendo il resto della storia di Giobbe che Giobbe non subì le sofferenze e le tragedie che poi subì perché era infedele a Dio ma anzi al contrario proprio perché era fedele a Dio Satana cercò di colpirlo per dimostrare che fosse fedele a Dio semplicemente per interesse quindi Giobbe subì quello che subì non perché era infedele a Dio ma anzi per il contrario perché era fedele a Dio vediamo i versetti seguenti Giobbe 1 dal 9 all'11 allora Satana rispose all'Eterno e disse è forse per nulla che Giobbe teme Dio non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui e alla sua casa tutto ciò che possiede tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese ma stendi la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia quindi Satana stava insinuando che Giobbe servisse Dio per interesse certo che ti serve certo che ti segue tu lo hai protetto lo hai benedetto con grande ricchezze ma togli lì queste cose e vedrai cosa succede vedrai se non ti maledice in faccia quindi stava insinuando che l'amore di Giobbe per Dio non fosse disinteressato ma al contrario fosse un amore interessato quindi Satana stava mettendo in dubbio l'esistenza dell'amore genuino che un uomo poteva avere per Dio e allora Dio permise a Satana di colpire Giobbe fu Satana e non Dio a colpire Giobbe e Satana fece morire tutti e dieci figli di Giobbe in un giorno e perse Giobbe anche tutto il suo bestiame che a quel tempo costituiva la ricchezza e più avanti nella storia abbiamo un dialogo simile nel capitolo successivo in Giobbe 2 Satana chiede di poter colpire ulteriormente Giobbe perché Giobbe non aveva maledetto Dio nonostante la tragedia subita e Dio permise a Giobbe di scusate Dio permise a Satana di colpire Giobbe nella salute siamo in un mondo di peccato e le cose purtroppo succedono anche le tragedie il libro di Giobbe ci insegna che non è Dio che le manda ma Dio non ferma non blocca Satana ogni volta che Satana vuole fare del male agli uomini se Dio non lasciassero la libertà di azione a Satana in realtà non permetterebbe neanche l'esistenza stessa del conflitto ma Dio non può mettere in questo modo fine al conflitto come nel caso di Giobbe che era un uomo fedele a Dio a volte le tragedie colpiscono anche chi è giusto anche chi è innocente anche i seguaci di Gesù e se così non fosse se i figli di Dio fossero sempre completamente al riparo come sotto una campana di vetro dal male e dalle tragedie beh allora chi non vorrebbe diventare cristiano tutto il mondo sarebbe cristiano ma la domanda è per quale motivazione sarebbe cristiano per quella che Satana insinuava che fosse presente nel cuore di Giobbe tutti sarebbero cristiani per interesse perché se un cristiano non si ammala mai di tumore se un cristiano non muore mai prematuramente ma solo pacificamente di vecchiaia se un cristiano non perde mai un figlio se un cristiano non perde mai il lavoro e tutti vorrebbero essere cristiani ma lo vorrebbero essere per le ragioni sbagliate se Dio benedicesse i suoi figli senza permettere che fossero anche colpiti dalla sofferenza e dalla tragedia non sarebbe evidente qual è la vera motivazione per la quale seguono Gesù Dio così permise a Satana di colpire Giobbe perché potesse l'accusa l'insinuazione di Satana potesse essere respinta perché Dio voleva dimostrare a Satana e a tutto l'universo che Giobbe sì amava Dio ma non per interesse lo amava perché era la cosa più preziosa per lui e lo avrebbe continuato ad amare a seguire e a benedire anche quando colpito dalla tragedia anche se Dio non evita completamente il male anche se Dio lascia a Satana una certa libertà di azione dalla storia di Giobbe comprendiamo che Dio mette un limite al male che Satana può compiere infatti nel capitolo 2 di Giobbe Dio impedì a Satana di togliere la vita a Giobbe è come se disegnò una linea nel terreno fino a qui puoi arrivare sì puoi colpirlo anche con la malattia ma io ti impedisco di togliergli la vita il mondo sarebbe un luogo ancora peggiore se Dio non fosse costantemente impegnato nel limitare l'azione malvagia di Satana e nell'ispirare invece gli uomini verso il bene Gesù con la sua vita su questa terra ha dimostrato che Dio agisce sempre per la benedizione dei suoi figli sempre per portare guarigione incoraggiamento speranza e salvezza laddove invece ci sono disperazione scoraggiamento e e perdizione Dio vuole portare trasformazione in un mondo che non lo conosce in un mondo che per la maggior parte è territorio nemico per lui Satana aveva detto che Giobbe avrebbe maledetto Dio se gli avesse tolto tutto e invece anche di fronte a queste tragedie Giobbe non si allontanò da Dio anziché maledire il nome di Dio disse benedetto sia il nome dell'Eterno il modo in cui un vero cristiano soffre può essere una grande opportunità per il mondo di vedere che Dio merita di essere amato per quello che egli è e non soltanto per le benedizioni che ci concede il modo in cui un vero cristiano soffre nella tragedia nelle prove è una delle testimonianze più forti che possono essere date in favore dell'esistenza dell'amore genuino verso Dio chissà quante persone nella storia leggendo la storia di Giobbe saranno state incoraggiate a rimanere fedeli a Dio anche di fronte alle prove alla persecuzione e alle tragedie che gli hanno colpiti perciò Dio non vuole colpire nessuno con il male Dio anzi interviene per limitare il male che Satana ci vuole fare però siamo in un mondo di peccato e a volte le tragedie colpiscono anche i figli di Dio se ha colpito la tua vita se dovesse mai colpirla un giorno la mia preghiera per me e per te è che possiamo avere la stessa reazione di Giobbe e glorificare il nome di Dio anche nel modo in cui soffriamo grazie